sì siamo siamo contenti la partita l'abbiamo fatta come sempre e abbiamo provato sì come hai detto tu a fare subito il pressing alto da sin dal primo minuto e abbiamo creato veramente tanto forse abbiamo concluso e fatto troppi pochi gol per quanta azione abbiamo fatto forse dovremmo essere un po più cinici sotto porta però la partita è andata direi tranquilla data bene è una vittoria importantissima perché con questa vittoria inauguriamo il nuovo anno e che spero sia un anno positivo e soprattutto festeggiamo a modo questo giorno importante per la polisportiva